Musica Ma Susanna, dici che gli ebrei ce la faranno arrivare alla terra promessa? Sì, certo, Don Mirko ci ha parlato dei tanti problemi che sono avvenuti nel deserto e mi chiedo anch'io se ce la faranno gli ebrei arrivare. Potremmo chiamare Don Mirko. Don Mirko? Ciao Susanna, ciao Angelica, ciao, ciao. Di cosa stavate parlando? Eh, ci stavamo chiedendo se alla fine gli ebrei riusciranno ad arrivare alla terra promessa. Potresti dirci qualcosa? Sì, perché nel deserto abbiamo visto davvero tante difficoltà. La mancanza di acqua, la mancanza di cibo, i serpenti velenosi, i popoli nemici, l'infedeltà a Dio. Davvero tanti problemi hanno i nostri ebrei nel deserto e ci siamo lasciati l'ultima volta con gli esploratori che fanno una ricognizione nella terra di Canaan, prendono paura perché ci sono popolazioni molto forti e dicono chi ce l'ha fatto fare di uscire dall'Egitto e andare nel deserto per poi essere uccisi dagli abitanti di questa terra di Canaan che sono davvero molto forti. Quindi il clima generale non è esattamente l'ottimismo, ma anzi c'è grande preoccupazione. Vediamo oggi un altro episodio, quello delle acque di Meriba. Siamo nel libro dei numeri al capitolo 20. Ora tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Cades. Mancava l'acqua per la comunità, ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè dicendo Ma don, ma perché Dio non ha dato subito acqua e cibo al suo popolo? È vero, tanti si chiedono come mai questo popolo, il popolo letto di Dio, debba attraversare così tante difficoltà, anche materiali, la mancanza di cibo e la mancanza d'acqua. Però mi viene da dire questo, Dio ha creato il mondo, fa alleanza con un popolo, ama gli uomini, ma non risolve con un tocco magico tutti i problemi di questo mondo. Nel momento in cui Dio ha creato il mondo, ha fatto sì che le cose si svolgessero secondo un ordine naturale. Il ciclo delle stagioni, la vita degli animali, la vita degli uomini, anche direi le guerre tra i popoli, anche la successione degli imperi, anche la geografia, la storia, insomma seguono un corso anche autonomo, altrimenti sarebbe come dire che Dio ha fatto di tutti noi delle marionette. Non solo degli uomini, ma di tutto il creato. E quindi qui non serve chiamare in causa, a mio parere, una cattiveria di Dio per il fatto che non ci sia nel deserto acqua per il popolo. Questa è una delle difficoltà. Quello che è importante però è che vedremo adesso, nel seguito del brano, questo problema fortissimo, un problema davvero di questione di vita o di morte, viene risolto attraverso un miracolo, un qualcosa che non è frutto dell'uomo, ma è un dono di Dio. Questo direi importante, non tanto allora Dio che ti priva del necessario, ma Dio che anche quando meno te lo aspetti ti può sempre tenere in vita e portare benedizione. Ma continuiamo a leggere il nostro brano. Perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo in ospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni e non c'è acqua da bere. Insomma, Mosè e Aronne ricevono queste grandi critiche da parte della gente e si rivolgono a Dio che gli dice, e siamo al versetto 8, «Prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame». Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore come il Signore li aveva ordinato. «E Mosè poi alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevero la comunità e il bestiame». Don, in che modo Mosè procura l'acqua che non ho ben capito? Sì, il brano in realtà non ci dice come Mosè avrebbe procurato l'acqua, o meglio ci dice che questo evento fu qualcosa di miracoloso, perché chiaramente Mosè ha percosso la roccia con il bastone non è un modo per cercare acqua e far scaturire acqua. Direi che è proprio il segno che qui all'opera c'è Dio, che garantisce la benedizione per il suo popolo. Direi che è questo l'importante dell'episodio, cioè di fronte a questa mancanza molto grave del popolo, Mosè e Aronne consultano Dio e Dio dice che da quella roccia lì, una volta che voi la battete col bastone, uscirà l'acqua e così avviene. Dio, insomma, non dimentica il suo popolo. A questo punto però abbiamo un colpo di scena. Notate che, e potete sottolinearlo, Mosè ha percosso la roccia due volte con il bastone, qualcosa che naturalmente non può che passare così, in maniera non importante. Eppure dopo il Signore disse a Mosè e ad Aronne, «Poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do». L'episodio sembrava finito bene, vero Susanna, con la benedizione, questo dono dell'acqua, e invece adesso abbiamo un discorso molto duro da parte di Dio. Dio dice, «Non avete creduto in me». Allora, cosa dicono gli studiosi? Probabilmente Mosè ha percosso la roccia due volte come se al primo colpo non avesse avuto abbastanza fede. Ha voluto esagerare, Dio gli ha detto, «Colpisci la roccia una volta» e Mosè l'ha fatto due volte. Non è una banalità, un dettaglio, forse è un segno da parte di Mosè di una certa mancanza di fede. E Dio allora dice, «Avete dato prova di non credere fino in fondo a me?» E allora, ecco un po' la punizione, cosa dice Dio a Mosè e ad Aronne? «Voi non entrerete nella terra promessa insieme a questo popolo». E infatti se c'è una cosa importante da dire rispetto alla figura di Mosè, è che Mosè alla fine sarà colui che guida il popolo fuori dall'Egitto, lo libera dalla schiavitù, lo conduce nel deserto, fa di tutto per garantire che questo popolo resti unito, sconfighe nemici, eccetera. Però alla fine Mosè, ed è incredibile, non entra nella terra promessa. Allora probabilmente la questione è questa, come mai Mosè, il nostro supereroe, dicono gli ebrei, non è entrato nella terra promessa? La risposta è stata, forse Mosè ha fatto qualche tipo di peccato nel periodo nel deserto e per questo peccato Dio poi gli ha detto, «Neanche tu sarai tra quelli che entrano nella terra promessa». Qual è questo tipo di peccato? Ecco, il nostro brano di numeri venti che stiamo leggendo vorrebbe offrirci una spiegazione. Il peccato di Mosè, il peccato che ha portato Mosè a morire prima di entrare nella terra promessa, è questa mancanza di fiducia in Dio che aveva detto «colpisci la roccia» e Mosè l'avrebbe colpita due volte come segno appunto di una fede titubante. Ma sono solo ipotesi. Quello che però è importante dire è che questo episodio si conclude con il nome, «Queste sono le acque di Meribah dove gli israeliti litigarono con il Signore e dove Egli si mostrò santo in mezzo a loro». Vi faccio notare, e qui potete sottolineare, che in questo versetto finale si dice che in questo luogo di Meribah, e nel nome Meribah c'è praticamente la radice del processo, in qualche modo di un giudizio anche negativo di Dio rispetto alla debolezza del popolo, ecco, in questo luogo, in questo passo si dice che gli israeliti litigarono con il Signore, mentre appena sopra abbiamo detto che il popolo ebbe una lite con Mosè. Cosa mi viene da dire? Che noi se colleghiamo questo versetto e questo versetto vediamo che litigare contro Mosè è come dire litigare contro il Signore. A tal punto Mosè è un servo di Dio, a tal punto Mosè è in qualche modo l'uomo mandato da Dio per salvare il popolo, che si può dire che quando qualcuno contesta Mosè è come se contestasse addirittura il Signore. Questo vuol dire che Mosè ha un ruolo davvero grandissimo, nonostante questa sua debolezza, però Mosè è davvero una grande figura. E passiamo adesso invece a un altro brano che troviamo nel capitolo 21 del Libro dei Numeri. È un brano particolare, forse conviene che lo legga e dopo vediamo se avete qualche domanda. Gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom. Edom era un nemico, quindi il popolo preferisce fare un giro lungo pur di non incontrare e di non incrociare questi possibili nemici. Ma il popolo appunto non sopportò il viaggio e il popolo disse contro Dio e contro Mosè. Notate allora che qui abbiamo una contesa che riguarda appunto contro Dio e contro Mosè per il discorso che abbiamo visto prima. Chi ce l'ha su con Mosè è come se ce l'avesse su con Dio e viceversa. Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. E adesso arriva il colpo di scena. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo e qui potete sottolineare la preghiera di Mosè per il popolo. Mosè tante volte prega per il popolo, per questo popolo così infedele, così debole, così ribelle. Anziché scaricare questo popolo che davvero ha tormentato Mosè in tutti i modi, Mosè prega ancora per questi suoi fratelli. Una figura molto bella. Non li abbandona ma nonostante mille critiche, incomprensioni eccetera, Mosè è rimasto legato al suo popolo. Allora Mosè prega per il popolo e poi il Signore disse a Mosè Non ho capito bene cosa significa questo serpente. E' un episodio particolare vi dicevo perché tutto nasce da un dato normale, cioè nel deserto ci sono dei serpenti velenosi che in qualche modo Dio avrebbe mandato contro il popolo per punirlo rispetto a questa sua ennesima ribellione. E qui si potrebbe aprire il capitolo in che senso Dio dovrebbe punire il suo popolo in queste misure così violente, serpenti velenosi. E' un modo direi all'antica di parlare della pedagogia di Dio, cioè Dio per farti capire che sei completamente fuori strada ti mette un ostacolo, un semaforo rosso molto forte perché tu capisca che sei tu nel peccato, sei tu nella condizione sbagliata e possa ricrederti e tornare sulla retta via. Certo espresso in termini molto forti e qui addirittura con l'invio di serpenti velenosi nel deserto. Quello che poi viene fatto ha un che di magico, infatti probabilmente qui troviamo una eco di antiche pratiche religiose del Medio Oriente di 2000-3000 anni fa, e cioè per rispondere al flagello dei serpenti velenosi si faceva un serpente di metallo e si diceva che guardare questo serpente di metallo permettesse di rimanere indenni, incolumi rispetto poi ai serpenti veri. Allora Mosè fa un serpente di bronzo, lo mette sopra un'asta e avviene ancora questa sorta di miracolo di guarigione. Certo c'è al fondo del nostro episodio un qualcosa di magico, questo serpente che viene innalzato e che permette al popolo di essere salvato. Abbiamo il fatto che Dio da un lato castiga ma dall'altro è pronto a perdonare. Vedete Mosè prega per il popolo, intercede per il popolo e Dio è pronto a perdonare. Un altro aspetto mi pare interessante è che questo episodio trova la sua realizzazione, poi viene citato da Gesù stesso nel Nuovo Testamento. E infatti nel Nuovo Testamento si dice come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù parlando e anticipando la sua morte in croce nel dialogo con Nicodemo e qui siamo nel terzo capitolo del Vangelo di Giovanni, potete scrivere Giovanni 3, dice a Nicodemo ricordati nel deserto Mosè quella volta ha innalzato il serpente e chi guardava il serpente ritrovava la salute, guariva, non veniva appunto dai serpenti velenosi. E così dice Gesù quando io sarò innalzato sulla croce da lì diventerò la salvezza per tutta l'umanità. È molto bello il fatto che Gesù citi questo episodio da un certo punto di vista secondario dell'Antico Testamento e della Bibbia, però il serpente innalzato nel deserto è una qualche prefigurazione nella sua salvezza della salvezza che ci procura Gesù innalzato sulla croce nel momento in cui si dona a noi e si sacrifica per noi. Ecco allora abbiamo visto in questo nostro incontro come Mosè nonostante tante ribellioni del popolo, tante critiche, tante accuse, comunque sappia sempre pregare per i suoi compagni, i fratelli ebrei, ottiene l'acqua magari con mancanza di fiducia e per questo motivo Dio lo punirà alla fine della sua vita, ottiene l'acqua e poi ottiene anche la guarigione, la salvezza rispetto ai serpenti velenosi che Dio aveva mandato per punire il popolo per la sua continua ribellione. Grazie a tutti!